Enesimo blocco dinanzi alla raffineria Eni di Gela e il secondo giorno consecutivo. Ad incrociare le braccia sono gli operai dell'indotto, la filiera degli ammortizzatori sociali è esaurita e le manutenzioni sono ridotte ai minimi termini e il presente è nebuloso. Qui, dicono gli operai, non si muove foglia, siamo tutti in attesa. Il problema raffineria è il problema Gela, perché fin quando non si capisce che la crisi che c'è qui nell'indotto e nella raffineria interessa pure i commercianti, perché alla fine non dobbiamo nascondere il fatto che la situazione economica esce da qui, dalla raffineria, quindi i commercianti dovrebbero essere sensibili al loro futuro e dimostrare solidarietà a noi che siamo qui. Le promesse non sono state mantenute a partire dal sciopero che abbiamo fatto il mese di luglio che doveva andare in marcia l'aglia 1 e da lì non è partito niente, anzi, visto con prova stanno cercando tutto quello che era possibile da cercare per mettere anche gli impianti in sicurezza. E questa mattina la tensione è salita, lavoratori contro lavoratori, quelli dell'indotto contro quelli del diretto. Questi ultimi sono accusati di solidarizzare solo per pochi minuti, dopodiché entrano in fabbrica. Io preferirei che ci sia un'unità sindacale di tutto l'indotto, perché solo l'unione fa la forza. Il diretto anche oggi ha preferito andare al lavoro, nonostante qualche settimana fa si era detto che oggi doveva essere uno sciopero generale per tutti. È bastata una sola telefonata dal ministero per riunirli tutti a un torno a un tavolo e rimandare il tutto. Secondo me sarebbe stato opportuno oggi fare sciopero e dare un segnale di rabbia che in questo territorio c'è. State perdendo pure le speranze? Sì, io già l'ho persa. Ma per quale motivo? Perché non ce ne abbiamo risposte, risposte non ce ne abbiamo più da nessuno, nemmeno dal sindaco, nemmeno dalla popolazione, ma chi ci deve aiutare più a noi? Noi, questa forma di protesta contro le istituzioni, contro l'Eni, contro un po' tutti è anche scaturita da una rabbia che si percepisce dal fatto che da parte di Eni non ci sono, non c'è una politica chiara e limpida che ci dice cosa succederà di questo sito industriale.